Proviamo questa avventura. Oggi è 19 dicembre, sono le 10 e 20 e iniziamo a tirare queste due serie di frecce per le World Series online. Non le filmerò ovviamente perché non voglio avere il caso che tutto mi vado a bere, ma sono abbastanza in forma. Vediamo cosa salta fuori. Comunque faccio il filmato di tutta la gara e poi le fotografie ovviamente per mandarne in contatto. Amoratemi in bocca al lupo e possiamo cominciare. Ok, iniziamo. Prima serie di frecce, poi segniamo i punti. Prima serie di frecce. Prima serie di frecce. hai voglia di farti sentire vuoi che la tua musica rinni a tutti e allora partecipate lo Shakey ornani contest e vi ha cominciato a presto a chiocciola Radio Shakey i tuoi selezionati si sfideranno sulle nostre facce di Facebook e Instagram e ogni mese te la regla con vincitore che andrà in onda su Radio Shakey ora aspettiamo solo dei Radio Shakey Radio Shakey Radio Shakey Radio Shakey Grazie. 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 Ora un po' di pazza. Comunque buono, ottimo. Un po' di pazza e riprendiamo tra dieci minuti. Ok, iniziamo con la seconda. Seconda serie. Ah, ok. Grazie. Inizio. Un po' di pazza e riprile.. Una volta iniziamoci… Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.